Non si tratta di un fatto occasionale, ma di un incubo quotidiano che vive tutto il personale in servizio presso l'ostetricia ginecologia dell'ospedale Spock di Polistena. Non si può lavorare in pace, si lavora sotto stress e possono saltare persino i protocolli perché all'emergenza subentrano altre emergenze. Il personale non è sufficiente e la scarsa igiene gioca contro su tutte le unità di degenza. E' l'ennesimo grido d'allarme lanciato dal segretario regionale del Sulpi Giuseppe Gentile sulla drammatica situazione in cui versa il Santa Maria degli Ungheresi. Le partorienti, dice il sindacalista, si presentano direttamente in reparto o al pronto soccorso pronte per far nascere i propri figli, non sapendo che i posti letto sono tutti occupati, ma una volta giunte in reparto non si fa più in tempo per disporre il trasferimento qualora si trovasse posto dove trasferirle. I tempi sono molto ristretti quando iniziano le doie, bisogna monitorare subito e predisporre il parto naturale oppure il cesareo in estrema urgenza. Invece a Polistena si rischia di partorire per terra, denuncia ancora gentile. Non basta più trasformare la sala Travaglio in stanza di degenza e tutti gli spazi possibili per ospitare le donne gravide. Non c'è il tempo necessario, sottolinea il sindacalista, per disporre il trasferimento in altri ospedali perché si rischia di partorire in ascensore o sull'ambulanza, come già è successo. Inoltre il personale delle pulizie può lavorare soltanto per tre ore al giorno perché l'ospedale non è classificato ad alto e medio rischio, ma come un grande ufficio da spazzare in fretta e svuotare le scartoffie dai cestini. Uno scenario di grande criticità dove si inseriscono tutti i parti cesarei, urgenti e programmati da dividere con le emergenze e nascite improvvise proveniente dall'intera provincia di Reggio Calabria. Medici, ostetriche e infermieri si devono moltiplicare nelle prestazioni, fare il triplo del lavoro, essere preparati a lottare per salvare le vite delle mamme e dei neonati, prolungando l'orario di servizio per non lasciare incompiuto il lavoro iniziato. Questi esempi di dura, difficile ma buona sanità, bacchetta gentile, non trovano corrispondenza nelle decisioni dell'azienda sanitaria provinciale. Difatti, evidenzia il sindacalista, ancora nulla è stato fatto per migliorare le condizioni igieniche, per garantire la presenza del personale preposto durante le ore diurne e notturne, ma si continua a lasciare un solo addetto alle pulizie per tre ore al giorno. Tuttavia, dice ancora Gentile, la direzione dell'Asp non ha ancora deciso di riconoscere l'alto e medio rischio presente nell'ospedale di Polistena e lo ha fatto soltanto per l'ospedale di Locri. Purtuttavia, da qualche giorno è stato pubblicato l'atto aziendale con numeri che corrispondono al personale in servizio. Chi si paga lo stipendio non risulta inorganico. Gravissima condizione, ma al di là di questa errata somma algebrica, ironizza il sindacalista da correggere, leggiamo che i posti letto dell'ostetricia ginecologia di Polistena sono stati confermati i 20 esistenti senza tener conto di quelli soppressi nella sanità privata.